Siete riusciti a liberarla? Qua si, però questa, se no si toglie bene bene, questa qui si toglie, la tua gola, aspetta, attenzione alle mani, c'ha un'amo in bocca probabilmente, o sotto la gola, controlla, attenzione che se vi prende le mani fa male ragazzi, si è liberata la cosa, prima di lasciarla però